ok inizia un altro livello di assassin club brotherhood eh ho perso ho perso la parte del banchiere quindi adesso devo farla rifarla Aah hatemi il forziere Luigi lo devo portare al banchiere potete entrare noi non entriamo dovete pattugliare per ordine di Cesare e ti pareva Cesare e qui Luigi è stato ucciso il bug da cavolo il cavolo fantasma a via claudia il banchiere qui spaghiamo questi po' ok il perfetto accidenti copertura perfetto ok camolo ho perso la fazione accidenti le prostitute sono andate a prostituire le prostitute sono andate a prostituire per il banchiere no 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 sei sospettito no muori no il banchiere abbondano come i pesci abbondano come i pesci si 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 No, no, no. no e vai ma subito vai subito no ma qui non c'è nessuno qui due come che posso ci do no 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 ma subito no no che è accidente ah no che fortuna che fortuna che fortuna ma che grazia di fortuna ma no ma non è possibile non muori corri corri ammazzò l'universo che fortuna che fortuna fortuna non è indovina benvenuta alla mia festa sono giovanni cesare sta per iniziare il discorso nel salone c'è mezzo vieni qui idiota ti stai divertente mia caro sì eccellenza moltissimo una cosa stupenda non si si vede sono le cose belle della vita davvero non pensa se vengo una mela e decido di coprire nessuno mi frega tranne il proprietario dell'albero forse non mi hai capito i miei alberi sono tutti no no eh non so lo so lo so ma fra poco non avrei nessun albero eh non so lo so lo so ma fra poco non avrei nessun albero ma perché non importa non la voglio sapere ma perché e vai canestro quale miglior modo di festeggiare le mie vittorie che unirsi in una fratellanza virile presto ci ritroveremo qui per celebrare la nascita dell'italia unita ma anche no allora la val doria durerà 40 sì e 40 sì che la festa abbia sì c'è le papaccicciune che applaude ho provato di conquistare l'italia se il vostro geniale comandante in capo dice che è possibile perché non vi rallegrate rischi di rovinare il delicato equilibrio che abbiamo conquistato con tanta fatica apprezzo ciò che avete fatto per me ma l'esercito è mio quindi sono io che decido non siate qui divertitevi testo il quattro il quattro te lo ha detto lo deciso io ma qui c'è un bag si è proprio un bordeaux tutto fatto ha fatto il resto mettati qua Oh che preparati amore ciccione E vai l'ho ucciso Addio sei morto sei contento che sei morto Tutto ciò che ho toccato visto e gustato Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto Un uomo di potere dovrebbe stare alla larga dai piaceri vani Ma ho dato alla gente ciò che desiderava E ora ne pagherete il prezzo Il piacere immeritato si consuma da sé Requiescati in pace Ok è morto Addio Pivelli Ok Ok Adesso Mannaggia questo cavallo E dai fermati Vai vai Ok 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 Non mi ricordo adesso che cosa c'è Quindi a fa poco lo scoprirò Vai Vai Scendi Ok 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 Documenti preziosi La ragazza di Claudia hanno Le ragazze di Claudia hanno fatto il denaro Che becchier Ma ci sono un problema Cosa che ci ho raccettato Dove sono Claudia e mia madre Eravamo tornate col denaro Ci hanno seguita E bene Mia sorella sa come si infugna un coltello E anche qualcos'altro Parli come una vera uditore Finalmente siete tornati in voi Alla buon'ora dico io Vabbè 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 Meglio tardi che mai Sincronizzazione al 100% Cioè sebbene Ho fatto tutta questa strada per questo No Ma il mondo sta per esplodere Sto per morire BAM Morto Per Ha Mal asa Per Ha Or Gesù Il Suc Il Le Il i baroni di brados scusate un attimo ma non è ma è che mica qua ok sta registrando si sta registrando ok io vado che va là salute anche a te Ezio aspettavo mia moglie si sa perché non mi stupisce ecco me parlami del loro generale il barone di brados che va là aspettavo mia moglie devo affidargli un intero esercito per sconfiggermi la cosa vi lucido dove posso trovarlo? è solo questione di tempo prima che tagli la gola a quel valua li stiamo ringraziando sembrano avvicinarsi invece ma la situazione è sotto controllo sbarrate le botte bene allora forse puoi darmi una mano non sbredanni sarà un'impresa adesso qui ci sarà da divertirsi d'accordo sbarrate le botte come a scappare fatti sotto no accidenti e paglia cazzo 10 cazzo di essere inferiori adesso il comaglio sato fuori D'accordo ragazzi Ora siete morti Come mi piace E parola di Barua Votra segnali da campo Bonjour General Dalviano Etes-vous prêt a vous rendre ? Perché non venite qui a dirmelo ? Dovreste imparare il francese E tu dovresti imparare l'italiano Potreste insegnarmela voi E io vi insegnerei a combattere Visto che sembrate saperne assai poco La discussione è alquanto divertente Ma arriviamo al punto Vorrei la vostra resa incondizionata entro l'alba Ha un grande senso dell'humorismo Purtroppo un'altra signora non sarebbe d'accordo Mio marito vi ucciderà tutti Io ti ammazzo cane di un francese Cane di un francese Presto diventerà la lingua ufficiale in Italia Si contaci Mi renderò Pezzo di merda Figlio di puttana Salute Salute Mi ripeti che cosa ha detto ? Chi è ? Già mi immagino tutti quei Tutti i commenti E' come ho detto questo regino Già mi immagino i commenti che mi arriveranno fa Ah ah tu imparare l'italiano sentite Questo sarà beccato Rapisci la moglie di un uomo E vai a nasconderti in una fortezza ? Non hai niente fra le gambe Tranne un buco così profondo Che arriva fino allo stramaledetto inferno Come puoi aiutarlo ? Ma che modi ? Raduniamoci e apriamoci un barco all'ingresso Come facciamo all'arsenale Ci sono più francesi da qui all'ingresso Che nelle strade di Parigi Allora scaleremo i bastioni Impossibile scavarli La mia fantasilea saprebbe cosa fare Forse questa è la fine All'alba porterò i miei doni a quel codardo Speriamo solo che le risparmi la vita Ah perché non ci ho pensato prima ? Che cosa ho detto ? Richiama i tuoi uomini negli alloggi Ti spiegherò tutto lì Speriamo che sia una buona idea Ci riteriamo ! E quindi qua cavallo Cavallo ? Buongiorno 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 Anna Allora Soprattutto se le pattuglie vengono colte di sorpresa. Ma certo! Allora dobbiamo trovare alcune armature francesi. All'alba entreremo camminando. Ah! Ah! Ezio, auditore! Sei davvero un grand'uomo! Eh, lo so! Magnifico! Vado a cercare le armature. Le prenderanno i miei dai calaveri. Poi partiremo da nord per non destare sospetti. Ah, Ezio! Ricordati di ucciderli senza combattere. Le armature devono essere pulite. Possiamo farti individuare. Sarà abbastanza impossibile. D'accordo. Attaccati! Attaccati! Perfetto. Aspettate la guardia! Cavolo! Il mantello. La nazione. Lo sto perdendo. La nazione. Accenti! Tutto il piano è andato a prostitute. Ma le valore di morire per questo partato! Certo! Lo vedo! Io! Sto... 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 a Sì, è felico. Goodbye! non vedo l'ora di spoderarsi 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 ma adesso vorrei dai se e non Grazie. Ma sul cavolo, sul cavolo. Il mio concertone, il mio concertone. Perfetto. 28 minuti, accidenti. Corri, corri, corri. Eccoci. Ma non tu? State da birra. Dammi una di quelle armature da pervertiti. Tu non dovrai indossarla. Eh? Già, fa parte del piano. Tu ti arrendi a noi. Ti portiamo al cospetto del barone. Ah, già. E poi? Al mio segnale i tuoi uomini attaccano. Bene. Va a travestirti. L'alba è vicina. Mettetevi in formazione. Squadra Junior, rapporto. Ma finisci l'altro livello di Assassin's Creed Broadhood. Alla prossima.